Tutto bene, Lee? Occhi aperti, potreste vedere una balena. Ho uno squalo. Un giorno ero in acqua da solo e uno mi ha attaccato alle spalle. Per fortuna è stato solo un bacio affettuoso. Benvenuti a Hell's Reef. Finalmente. È stato uno squalo. Uno squalo! Deve essere qui intorno. Non sappiamo dove cercare. È quasi impossibile trovare qualcosa. Ma dobbiamo provarci. Forse è ancora viva. Stiamo affondando. Siamo in balia della corrente. Domani mattina saremo lontani da qui. È partito il Mayday? Non lo so. È il battello di salvataggio? La corrente si muove verso est. Sfruttiamola per arrivare alla costa. Stai sgherciando? Hai un'idea migliore. Dici che se n'è andato? È ancora qui ed è vicino. Tutti fuori dall'acqua! Manny! No! 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 Grazie per la visione!